Non c'è niente da fare, la voglia di avere like è una voglia incontrollata, irrefrenabile, da parte di molti giovani, da parte quindi di molti ragazzi. Ed è quello che è accaduto di recente a Roma, precisamente sulla scala, o mai sulle scale del tamburino, ci troviamo nella zona centrale di Trasfevere, a due passi dal centro storico di Roma, dove i ragazzi sono saltati con la bici e il video di questi vandari è diventato virale nel web, nei social si vedono questi ragazzi che addirittura vanno a distruggere i monumenti per un pugno di like, per avere più mi piace possibili. Si vede questa scena nella zona trastevina, nella scalina trastevina per eccellenza, e vanno a provocare addirittura danni alla relativa scala, proprio attraverso i social, i residenti hanno saputo dello show, sono arrivate le foto di possibili ingenti danni, agli storici e scalini che hanno un immenso valore artistico e sociale, l'ennesima bravata, l'ennesima beffa nella città di Roma, che continua a essere protagonista indescrivibile di un degrado eterno, completo, totale, infinito. Nel video si vede bene la bicicletta, è una di quelle rossi utilizzate dal servizio Sharing Jump di Uber, per le forze dell'ordine ovviamente non sarà così facile, o mai così difficile risalire ai responsabili, in quanto comunque non ci davano a proseguire ad andare avanti. Non è la prima volta che Roma purtroppo deve affrontare una situazione emergenziale come questa, l'ennesimo affronto nella città eterna per eccellenza, che veramente si trasforma in una vera e propria favela a cielo aperto. E' caduto già tempo fa il piazza del popolo, nei catecumini del rino dei monti, questa volta tocca a Trastevere, precisamente, ripeto, nella scala del tabuino. Grazie, grazie a tutti, il video termina qua, un saluto caro d'Ariandro, un saluto italiano, iscrivetevi a questo canale, ciao!